Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Grazie. 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 ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Mi ha già commosso l'applauso in apertura che avete rivolto ai nostri ospiti e quindi inizierei da qua. Ringraziamo con grande riconoscenza e salutiamo con affetto padre Mauro Lepori e Paola Marenco. Questo è il terzo incontro di un ciclo che il meeting di quest'anno ha voluto dedicare alle amicizie volte inesauribili, volti come Pino Puglisi, Dorothy Day, Don Lorenzo Milani e appunto Takashi e Midori Nagai che vogliamo conoscere, vogliamo approfondire, avere come compagni di cammino perché ci mostrano che il lasciarsi generare da un'amicizia infinita rende la vita una fecondità straordinaria a servizio di ogni uomo e di tutta la società. Permettetemi una brevissima introduzione per coloro che si accostano per la prima volta a questi due testimoni. La storia di Paolo Takashi e Midori Nagai comincia ad essere ben nota in Italia grazie al lavoro di traduzione e cura fatto da Gabriele Di Comite e all'opera di diffusione culturale di Paola Marenco, entrambi medici, rispettivamente presidente e vicepresidente del comitato, amici di Takashi e Midori Nagai e a tutti gli amici di questa associazione. Il meeting sicuramente è stato un grande volano alla diffusione di questa coppia di sposi. Nel 2019 realizza una mostra dal titolo Takashi Paolo Nagai, annuncio da Nagasaki a cura di medicina e persona sulla vita del medico radiologo, prima e dopo la tragedia della bomba atomica che ha devastato proprio la parte della città con una storia di 400 anni di cristianesimo ricca di fede, di santi e di martiri. Più di 20.000 persone visitarono questa mostra, uscirono con mosse e nei mesi di pieno lockdown che seguirono furono numerose le realtà culturali, le parrocchie, le scuole che invitarono i curatori a presentare la mostra via web per cercare proprio una speranza in quei giorni bui. Sono tanti i fatti che seguirono, fra cui forse più importante l'incontro con il vescovo di Nagasaki che venendo a conoscenza dell'operare del comitato amici di Takashi e Midori Nagai li accolse con gioia, quasi come aspettandoli e li riconosce come attori della causa di beatificazione di questa coppia di sposi. Segue il pellegrinaggio in Giappone organizzato da Russia cristiana sulle tracce dei due coniugi, delle tradizioni da cui provengano, visitando i templi buddhisti zen e shintoisti, visitando il Niokodo, il luogo dell'amore a se stessi. Segue la pubblicazione di ben tre libri a cura di edizioni San Paolo sulla vita del medico giapponese, la sua biografia, il diario dei suoi ultimi anni e le lettere ai figli appena pubblicato, libri importanti con le prefazioni di Angelo Scola, padre Mauro Lepori e Massimo Kamisaska. In questa edizione il meeting continua l'incontro con questi volti di testimoni e la storia da loro nata, approfondendo anche la figura di Midori, la sua silenziosa e feconda testimonianza totalmente dedicata al cammino del marito. Midori è una donna incredibile. Cresce in una famiglia cattolica che ospita Takashi durante gli studi ed è proprio in questa famiglia e con loro che il giovane medico inizia la conoscenza e la stima per l'esperienza delle comunità cristiane. Midori è moglie e madre premurosa a sostegno della famiglia. Da giovane maestra aiuta a distruire le donne del quartiere di Urakami, cuce, insegna le arti floreali, scava i rifugi antiaeri, soccorre i feriti, ara i campi dopo i bombardamenti nel tempo di guerra. Un'operosità feconda a servizio di tutti. Diamo la parola a Paola Marenco che ci mostrerà con delle fotografie le varie tappe e gli snodi più significativi della vita di questi nostri due testimoni. Paola, te la parola. Grazie prima di tutto al meeting e a Padre Lepori per l'amicizia direi ormai inesauribile appunto dimostrata ai nostri amici coniugi Nagai. Quando ho sentito il titolo del meeting quest'anno, ho pensato che era necessario proprio condividere alcune cose sull'amicizia proprio dei nostri coniugi. Per appunto, per brevità del tempo, desidero condividere con voi proprio alcuni punti, diciamo, della vita o alcune cose sostanziali che mi accompagnano e mi hanno colpito. Quando Takashi scrive di getto e lo fa in un mese e in terza persona, l'autobiografia riportata nel titolo di questo incontro, ciò che non muore mai, siamo al dicembre del 47, lui è malato, allettato, sono già passati due anni dalla bomba e dalla morte della moglie. Ma perché fa questa fatica? Mi sono persuasa che la faccia in realtà per riguardare con stupore quello che un altro ha fatto della sua vita, cioè proprio la storia di quella amicizia inesauribile e vera che è l'alleanza del creatore con la creatura, quando questa è abbastanza semplice di cuore da riconoscerla. Considero questa autobiografia veramente sfidante per ogni uomo che pensi che la vita serva a cercarne il senso, quindi per ognuno di noi. Ho molto apprezzato anche il sottotitolo che Gabriele Di Comite ha scelto per questa edizione. Il cammino di un uomo. Perché quello che Takashi ci presenta è il cammino di ogni uomo. Quanto a Takashi, adesso che lo conosco di più, lo definirei un uomo realista, nel senso che è un uomo che è sempre stato leale con se stesso e con la realtà. D'altro canto, la realtà è l'unico posto dove si può incontrare il mistero. E' un uomo, uno scienziato, e per lui quella che è la caratteristica dell'uomo, la ragione, ha una enorme importanza. E la ragione, dice Don Giussani, parte sempre dal reale. Mi aveva sempre colpito nella vita che anche quando Dio viene di persona a rispondere al grido di dolore di Giobbe, non si è messo a discutere. Lo ha sfidato con i fatti. Dove eri tu quando io facevo le stelle, eccetera. Però Takashi usa così bene la ragione, in un modo così straordinariamente aperto, che arriva molto presto a dire che l'uomo non conosce soltanto quello che si può dimostrare scientificamente, perché c'è anche una coscienza dello sguardo e del cuore. Tra l'altro, per esempio, così importanti in medicina. Lui si lascerà veramente provocare da tutto ciò che accade, cogliendo la presenza di un oltre che chiede di essere scoperto. E poi sarà capace sempre di verificare le risposte da qualunque parte vengano. Per questo sente come compagno di cammino lo scienziato Pascal, che dice che l'ultimo passo della ragione è riconoscere che ci sono molte cose che la sorpassano. Ma nell'alleanza con la sua creatura, Dio si ferma davanti alla libertà. Anche se poi rincomincia sempre a cercarci, penso, ognuno, qualunque strada abbiamo preso. Trovo molto interessante come Takashi stesso parla in questo libro dei bivi, degli incroci nella vita. e Lui ne ha avuti tanti nella vita e per lo più come ognuno di noi quando le cose che non vanno secondo i nostri progetti costituiscono una vera provocazione. Cito Dio è il Signore di tutto, ma solo la volontà dell'uomo è lasciata libera in se stessa. Ci sono molti bivi lungo il cammino della vita di un uomo di fronte ai quali la sua intelligenza e la sua libertà devono decidere se andare a destra o a sinistra. Il primo bivio nella vita di Takashi è lo sguardo della madre morente dal quale lascia ribaltare la sua posizione ideologica materialista per riconoscere che nell'uomo c'è qualcosa di più della carne e del sangue. È una creatura speciale. Tanto da decidere di andare a prendere alloggio proprio a Urakami che è un quartiere di Nagasaki a 500 metri dalla sua università dove abitavano proprio quei cristiani che lo irritavano quando sentiva suonare le campane della grande chiesa. Perché lo fa? Per verificare di persona la ragionevolezza della fede che nello scienziato Pascal lo ha così interrogato. E qui la sua conoscenza passa dai pregiudizi che aveva a una vera conoscenza. Conosce la loro storia e soprattutto vede come vivono. Vivono una vita più umana, si aiutano l'uno l'altro. Per esempio, non hanno risentimento per tutti i martiri che hanno avuto. Il secondo bivio è una grave malattia appena laureato, otite che diventa meningite. Appare già qui quella che sarà la domanda ricorrente della sua vita. Nell'esperienza della precarietà della vita il grido ha qualcosa che duri per sempre. La scelta marincuore per la radiologia, dovuta alla residuata sordità della meningite, dove però ben presto scopre di avere incontrato un vero maestro e si appassiona alla ricerca, che per lui è sempre ricerca del vero, alla cura dei malati e all'insegnamento. Tutto l'intero percorso della sua vita si può fare in parallelo fra quella che è la sua conversione nella vita e la sua conversione nella professione. intanto è sorpresa da quello che possiamo chiamare una rivelazione personale di una presenza a lui sconosciuta che gli accade durante la messa del Natale 32 a cui è stato invitato. Però non basterebbe senza la comunità dei credenti, quella nube dei testimoni che rendono visibile il mistero, come ci ha insegnato Padre Lepori. E poi, senza Midori, ne parlerà l'abate, donna di straordinaria fede che ben conosce quella amicizia con la maiuscola inesauribile, che diventa per lui compagnia vocazionale prima alla conversione e poi del matrimonio e quindi segno prossimo dell'alleanza, tenere e forte compagnia al destino nel quotidiano e che si svelerà poco a poco e persino più profondamente quando non sarà più al suo fianco in carne ed ossa. Altro bivio e vera decisione per l'esistenza è per lui il ritorno dalla guerra, dalla prima guerra in Manciuria, decidere di chiedere il battesimo. È stupefacente, come parla dei sacramenti, e come il sacramento faccia di lui una creatura nuova che pensa, giudica e agisce anche nei tre anni della seconda guerra in Manciuria e nell'insegnamento poi in università in modo completamente nuovo, cioè da cristiano. Ma nella vita di Takashi c'è una seconda bruciante domanda oltre a quella di cosa dura per sempre ed è ed io che sono, chi sono. Medico dedito all'inverosimile notte e giorno alla ricerca e alla cura dei pazienti ha tuttavia sempre più chiara quale sia l'esigenza primaria della vita di un uomo che darà all'uomo in cambio di se stesso per questo è così interessante che si sia legato alla San Vincenzo. San Vincenzo, anch'essa fondata da uno scienziato, ma di cui dice non mi sono mai persa una riunione in dieci anni perché lì si lavorava alla mia salvezza. Quello che è il lavoro su se stessi. E tra l'altro dice anche che il cristianesimo insegna ad amare prima Dio, poi se stessi e poi gli altri. Ma amare se stessi veramente non è un egoismo, è una lotta contro il proprio egoismo. nello stesso anno tra l'altro ha avuto uno shock anafilattico per cui stava morendo e chiama la svolta a quel momento lì perché dice da allora se si può morire in un attimo bisogna che ogni attimo sia vissuto come se fosse l'ultimo. E dice è sufficiente ciò che è necessario da lì in avanti. Il segno fra i segni, abbiamo detto, è la tenerezza di Midori che lo accompagna nella quotidianità e ama il suo destino fino a confortarlo quando nel giugno 45 ha la diagnosi di leucemia dovuta a tutti i raggi che ha preso al di sopra dei limiti di sicurezza per fare la radiografia a tutti i malati. perché lo aiuta a ricollocare questa circostanza drammatica nella tenerezza di un Dio di cui si fida e di cui conosce la tenerezza e i doni sia che viviamo sia che moriamo e per la gloria di Dio, mi dirà. Pochi mesi dopo la bomba atomica per tre giorni è medico per i sopravvissuti ma il bivio importante della sua vita è quello di tre giorni dopo quando risalito verso la sua casa trova le ossa carbonizzate della moglie vicino a Rosario Sciolto e in quell'11 agosto 45 osserva che non c'è più niente di tutto quello per cui ha vissuto quelle lì sono le sue medaglie quelle che vedete sono le sue medaglie sciolte tutte le sue ricerche sono bruciate la moglie è morta il laboratorio è distrutto l'ospedale non c'è più la sua città non c'è più la chiesa non c'è più lui termina il libro sceglie di terminare il libro dell'autobiografia proprio con una frase che cita in cui dice che era la voce di Gesù che gli dice le montagne passeranno le mie parole non passeranno cioè dopo aver pregato in ginocchio sulle ceneri di tutto quello per cui aveva vissuto una vita quella è sicuramente la scelta più drammatica della sua vita e più decisiva perché decide nel post scriptum dice tutte queste cose sono bruciate perché potevano essere potevano perire ma non si può vivere una vita senza senso bisogna aggrapparsi a ciò che non muore mai e adesso sa che ciò che non muore mai è la vita amata da Dio e la vita che ama Dio questa è la vera vita che un uomo deve vivere dice ho perso tutto ma con due bambini piccoli la salute che non c'ho già più per la leucemia sulla landa deserta incomincio la mia nuova vita infatti To decide di tornare ad abitare a Urakami dove aiuta tutti diciamo quelli che ritornano dalla guerra e dalla prigionia a fare quel piccolo bene che ciascuno può fare che può vincere il male poi dal 1948 ormai allettato passerà poi a vivere in una capanna di due metri per due proprio per scelta seguendo diciamo la via di sua moglie che credo gli si rivede molto di più che chiamerà il nio kodo come diceva prima Letizia luogo dell'amore a se stessi per giungere dopo tre anni di lavoro su di sé alla povertà di spirito che ben sa non essere facile nel mondo da raggiungere a quella pace del cuore e semplicità che è la posizione originaria prima di ogni interpretazione che è appreso dalla moglie questa semplicità raggiunta gli permetterà di scoprirsi un cuore di fanciullo felice ogni giorno e in ogni circostanza a differenza degli asceti giapponesi che si ritiravano dal mondo lui rimane in mezzo alla devastazione atomica per vivere con il suo popolo e solo dopo l'ardua salita sul monte delle beatitudini Nagai mi ha fatto capire meglio cosa vuol dire beati puri di cuore perché vedranno Dio che è il distacco dalla mondanità dall'affermazione di sé stessa anche nella dedizione ai malati alla ricerca vede in ogni dettaglio della realtà sotto la crosta dell'apparenza un dono di quella presenza amica frutto di questo cammino è quel volto luminoso incontrabile da tutti diventato ormai il medico del cuore la gente lo va a cercare perché quella faccia parla di speranza tutti lo ricercano per ritrovare il gusto di vivere e la speranza per ricostruire quanto attuale questa necessità oggi in un occidente in cui se non si può più parlare di cristianità estesa tanto più occorrono testimoni e santi incontrabili quel volto luminoso perché è certo di un'amicizia inesauribile recupero della posizione del bambino che non ha neanche bisogno di cambiare le circostanze difficili se è con suo padre quel volto ha ridato speranza e desiderio di ricostruire in un tempo certamente più drammatico e doloroso dell'attuale e ora vediamo come 70 anni dopo questa amicizia inesauribile continua a parlarci e tocca anche a noi tanto ad averci fatto ritenere di doverci assumere la responsabilità addirittura di una causa di beatificazione cosa che della mia vita sinceramente non avevo mai pensato di fare ecco, grazie applausi 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 grazie Paola continueremo a seguire voi e tutti gli amici del comitato e seguiremo i prossimi sviluppi di questa storia incredibile Padre Lepori a te chiediamo di approfondire proprio l'amicizia coniugale la vocazione di questi due sposi che insieme guardano al destino a te la parola grazie Sì la vita degli amici di Dio se volete dei santi è sempre profetica perché incarna e rende palpabile ciò che lo Spirito di Dio desidera annunciare al mondo ad un'epoca ad una contingenza storica dentro la quale l'umanità spesso smarrita cerca di orientarsi verso il suo destino buono non è un aspetto minore della infinita misericordia del Signore di sorprenderci con segni profetici più evidenti quando ci troviamo più perduti quando il disorientamento umano è particolarmente tragico e tenebroso spesso l'umanità dimentica i segni profetici quando crede che la tragedia sia passata perché passa lo sconvolgimento che essa provoca alla superficie dell'umana convivenza l'umanità crede di poter vivere tranquilla non perché abbia assimilato la profezia che risolveva la tragedia ma perché la tragedia con astuzia diabolica è tornata ad agire nelle profondità del corpo sociale e culturale come una malattia occulta che corrode questo corpo senza che esso se ne renda conto quando ho letto l'autobiografia di Tagashi Paolo Nagai e altri suoi scritti mi ha innanzitutto preso lo smarrimento di essere anch'io una cellula di questo cuore immemore distratto che ha potuto vivere senza ricevere l'eco di questa profezia espressasi al culmine della tragedia umana forse più terribile di tutta la storia della tragedia culminata con la distruzione atomica di Nagasaki ponendo fine ad uno scatenarsi del male che sterminò milioni di persone e distrusse secoli di cultura lasciando ferite e purulenze che oggi stesso continuano a far soffrire e morire popoli e nazioni Nagai ha interpretato la bomba atomica di Nagasaki come estrema espiazione voluta da Dio fece scalpore il discorso che Nagai pronunciò davanti alla cattedrale in rovina di Urakami disse io credo che fu Dio la sua provvidenza a scegliere Urakami e a portare la bomba esattamente sulle nostre case non c'è forse un profondo rapporto fra l'annientamento di Nagasaki e il fine della guerra non fu forse Nagasaki la vittima scelta l'agnello del sacrificio ucciso per essere offerta perfetta sull'altare dopo tutti i peccati commessi dalle nazioni nella seconda guerra mondiale queste parole questa coscienza sono il condensato della profezia incarnata da Takashi Nagai e da sua moglie Midori della profezia che non dovremmo cessare di ascoltare di cui dovremmo lasciarci penetrare per non vivere sopravvivendo alle tragedie del mondo per non vivere sopra le tragedie del mondo passate o attuali come se le calpestassimo incoscienti ignari indifferenti come quei sepolcri dei quali Gesù dice che la gente ci cammina sopra senza saperlo e questo avviene quando proseguiamo il cammino della vita senza la memoria di un significato di un senso che anche dopo le peggiori tragedie ridia al nostro esistere una direzione tesa al suo destino buono al suo destino vero un senso, una direzione che permettano di edificare il presente di tutta l'umanità perché abbia futuro e soprattutto perché abbia eternità spesso ci si preoccupa di avere futuro ma non di avere eternità un futuro cronologico in cui i nostri tesori terreni possano continuare a trovare un posto riservato ci preoccupiamo di avere eredi più che di avere figli di avere custodi di ciò che abbiamo più che figli che vivano della vita che trasmettiamo chi possiede un senso un significato edifica anche sulle rovine come ha fatto Nagai chi non ha senso non edifica anzi distrugge anzi distrugge anche le case sulla roccia che eredita da un passato in cui tutta la vita di un popolo era cultura che trasmetteva senso attraverso le molteplici espressioni dell'umano Nagai è profetico anche nel come ha pensato al futuro dei suoi figli e al futuro del suo popolo e al nostro futuro al futuro dell'umanità ma appunto per questo per questa landa atomica nella quale ci ritroviamo a vivere fosse anche per la responsabilità nostra appunto per questo la profezia di Takashi e di Midori Nagai ci è particolarmente donata è offerta alla nostra libertà e al nostro bisogno come segno amoroso dell'Eterno preoccupato del tempo del nostro tempo che rischia di dissolversi nel nulla che rischia di dissolversi in una distruzione vana in una distruzione fine a se stessa Nagai sulle rovine sulla polverizzazione della sua città che coincideva con la rovina e la polverizzazione di tutto quello che aveva costruito durante la sua vita come descriveva Paola che coincideva letteralmente con la polverizzazione di sua moglie Nagai su questa polvere questa polvere bianca che era diventato tutto attorno a lui ha come esercitato un ruolo sacerdotale e profetico ha preso nelle sue mani e nel suo cuore tutto quell'annientamento e invocando lo spirito come fece Ezechiele sulla valle piena di ossa inaridite ma come ha fatto ancor più Cristo stesso morendo in croce Nagai ha elevato tutto in offerta tutto allora è diventato sacrificio dell'agnello immolato sacrificio di amore di un amore che non è nostro amore perché il nostro amore da solo non regge alla distruzione dell'umano la croce è l'unica profezia compiuta e che può sempre compiersi perché è la profezia che si compie nella risurrezione la risurrezione la risurrezione non è solo un restauro non è solo una riedificazione la risurrezione riedifica dal nulla dall'alto della croce e elevato alla destra del padre Cristo riedifica il mondo intero polverizzato dal male dal peccato e dalla morte con una forza nuova una forza dall'alto ed ecco dice Gesù ai discepoli prima di ascendere al cielo io mando su di voi colui che il padre mio ha promesso ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto Luca 24 49 la potenza dall'alto che Gesù promette promettendo lo Spirito Santo non è solo una forza che scende dall'alto su di noi è una forza una potenza che dall'alto ci attira ci aspira ci eleva e con noi tutta la cenere in cui è ridotto il mondo umano per questo una delle promesse più potenti che Cristo ha espresso nella sua vita fu quando esclamò poco prima della sua passione e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me Giovanni 12 32 e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me annunciava la potenza divina d'amore che dalla sua morte in croce avrebbe risollevato e riedificato l'umanità attirandola dall'alto della sua glorificazione pasquale ma cos'è questa forza capace di attrarre tutti se non l'amicizia l'amicizia è la più potente forza attrattiva che una persona possa esercitare su un'altra soprattutto l'amicizia è la grande forza attrattiva che Dio esercita sull'uomo tutta l'umanità una forza che ha creato l'uomo ad immagine di un Dio che come ha felicemente osato definirlo l'abate cistercense del dodicesimo secolo Sant'Elredo di Revault è Egli stesso amicizia siamo creati attratti da un Dio attratto dalla nostra miseria dal nostro nulla un nulla chiamato ad essere ciò che Dio è in se stesso ad essere amicizia con Dio nulla di creato esisterebbe se all'origine non ci fosse la folle attrazione su Dio del nostro nulla capite non esisteva nulla e Dio ha amato questo nulla e lo ha attratto a sé lo ha attratto nella sua amicizia con la sua carità per pura misericordia la misericordia è il tutto che attrae a sé il nulla perché diventi tutto nel fuoco del suo amore infinito non dovrebbe allora stupirci che persino dopo l'annientamento nucleare di Nagasaki in totale disperazione è giunto all'estremo delle forze fisiche e psichiche caduto in coma Takashi Paolo Nagai abbia potuto percepire questa attrattiva di Cristo capace di far risorgere non solo quella città distrutta ma tutto il mondo annientato da due guerre mondiali scrive era tutto silenzio non si udiva alcun suono né segno di vita nella landa atomica il cielo a est si faceva più luminoso sembrava che la luce della speranza arrivasse a illuminare le tenebre della disperazione rimase scrive la terza persona rimase ad aspettare mentre il cuore si schiariva nel silenzio senti una voce potente sussurrare il cielo e la terra passeranno ma le mie parole non passeranno era la voce di Gesù ma quale parola più potente dell'annientamento di tutto del passare di tutto l'universo del cielo e della terra ci può sussurrare Cristo se non la parola che ci esprime il suo amore che ci offre la sua amicizia nessuno ha un amore più grande di questo dare la vita per i propri amici voi siete miei amici Giovanni 15 13 14 Simone figlio di Giovanni mi vuoi bene mi sei amico come io lo sono per te dando per te la mia vita sono parole di Cristo come queste che non passeranno mai che non possono mai passare perché la sua amicizia è eterna senza pentimento senza limite l'amicizia totalmente fedele tutto può passare tutto può crollare tutto può morire ma l'amicizia di Dio all'uomo non passerà mai non morirà mai perché perché proprio la morte di Gesù è l'atto supremo della sua amicizia per questo al culmine abissale della tragedia della storia e della sua vita Nagai percepisce che tutto può passare tutto può venire distrutto ma non la potenza rigeneratrice dell'amicizia di Cristo risorto dai morti allora Nagai intuisce che ciò che gli rimane da vivere fino alla fine è di lasciarsi attrarre al Signore dalla forza della sua amicizia e che questo avrà anzi sarà la forza e la potenza per ricostruire tutto dalle ceneri lui lui non dovrà che offrire se stesso come segno vivente dell'attrattiva di Cristo della potenza amica che dall'alto riedifica tutto che dall'alto rigenera tutti che fulcro di amicizia universale ha rappresentato Nagai nei sei anni che potrà ancora sopravvivere non si limitò a sopravvivere alla bomba questo gli sarebbe stato insopportabile e senza senso dopo aver perso tutto Tagashi visse e con pienezza con un'intensità straordinaria con una coscienza della vita moltiplicata dalla coscienza di ciò che non muore mai di ciò che rende eterna la vita anche quando si perde tutto anche quando si muore visse con il cuore sempre attratto da colui che attira tutti a sé dalla croce e dal cielo e così e così e così Nagai attirerà tutti a sé ma in realtà a Cristo dalle persone più semplici e povere fino all'imperatore del Giappone e al Papa la sua persona in totale povertà materiale e fragilità fisica diventerà il profeta della ricostruzione delle rovine distrutte secondo la promessa di Dio a Esaia ti guiderà sempre il Signore scrive Esaia ti sazierà in terreni aridi rinvigorirà le tue ossa sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inarediscono la tua gente riedificherà le rovine antiche ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate Isaia 58 insomma il profeta dell'amicizia di Dio edifica spazi e tempi in cui possa rivivere un popolo le tue strade perché le saranno popolate un popolo persone unite da una cultura tesa verso l'alto perché attratta da un'amicizia più grande di tutti e di tutto ma proprio trovandosi a vivere questo a vivere così vedendo la sua vita così potentemente attratta all'amicizia di Gesù Takashi si rende conto come non mai che tutto questo miracolo trasparenza al miracolo dell'essere di Dio che fa tutto dal nulla per amore tutto questo miracolo non sarebbe stato possibile non sarebbe possibile non ne sarebbe cosciente senza l'amicizia più bella e nobile della sua vita quella di sua moglie Midori non non avrei dovuto parlare finora senza parlare di lei ma era presente in tutto quello che ho detto non si può parlare di Takashi Nagai non si può parlare della sua vocazione della sua missione tanto meno di una sua santità senza implicare Midori senza parlare della vocazione missione e santità di Midori senza Midori senza il suo sì a Cristo senza la sua fede la sua preghiera ardente di speranza contro ogni speranza senza la sua carità insomma senza la sua amicizia con Cristo e in Cristo con Takashi penso che nessuno oggi parlerebbe di Takashi Nagai lo sentirebbe vivo e amico della propria vita ci sono santità che incarnano la santità dello Spirito Santo cioè una santità nascosta come all'ombra del Padre del Figlio eppure senza Spirito Santo non ci sarebbe nessuna santità nessuna carità non ci sarebbe l'incarnazione ma neanche la creazione non ci sarebbe l'incarnazione del Verbo in Maria non ci sarebbe la Chiesa non ci sarebbero i sacramenti la parola di Dio la testimonianza la fede la speranza senza Spirito Santo non ci sarebbe neppure Dio Dio non sarebbe uno etrino non sarebbe amore ecco Midori è un po' questo nella vita e nella santità di Takashi Paolo Nagai e dobbiamo esserne coscienti perché non capiremmo capiremmo nulla di Nagai senza sua moglie Midori ha coinvolto Takashi nell'amicizia di Cristo è stata veramente come la Maddalena l'Apostola degli Apostoli Midori è coinvolto Takashi nell'amicizia di Cristo quella amicizia senza la quale nessuna testimonianza anche eroica nessuna sapienza anche sublime nessun sacrificio anche della vita sarebbero profezia perché non sarebbero testimonianza di un altro sapienza di Dio sacrificio di Cristo che solo redime e salva il mondo quando San Paolo elenca nel capitolo 13 della Prima Lettera ai Corinzi tutta la vanità e inutilità di qualsiasi opera e virtù nella quale mancasse la carità parla proprio di questo perché la carità è l'amicizia di Dio che si fa carne in tutto il percorso di conversione e di fede che Nagai descrive nella sua autobiografia Midori ha un ruolo che praticamente si limita alla preghiera all'amore abbiamo sentito che Midori era anche una ma anche molto attiva nella sua carità eppure quando si legge la biografia di Nagai pur raccontando queste cose si capisce che il suo ruolo fondamentale il ruolo il cuore fecondo della sua missione sono state la preghiera e l'amore come il fuoco dentro la sua tutto quello che era e faceva solo qualche rara parola o semplice azione emergono come il fuggevole incresparsi di un'onda da questo fiume tranquillo di preghiera e amore ma è proprio questo fiume che non si fa notare che permette alla barca di Nagai di percorrere un tragitto lungo e operoso verso il mare il fiume porta la barca al mare perché in realtà in profondità il fiume già raggiunge il mare fin dallo sgorgare della sua sorgente Midori ha portato Takashi a una vetta di testimonianza e di sacrificio di sé per l'umanità che sua moglie già viveva fin da quando la incontrò nella casa in cui venne ad abitare da studente tanto è vero che la lettura sacrificale e eucaristica che Takashi espresse sulla distruzione di Nagasaki non fu che la dilatazione a tutta la città di quello che ha visto in Midori sia prima che dopo la morte che amicizia ha offerto e insegnato Midori a Takashi Paolo Nagai non è una domanda banale perché è come chiederci di che amicizia abbiamo bisogno tutti per stare di fronte alla distruzione e alla morte lasciando vincere la vita e l'amore perché di fronte alla landa atomica Nagai anche se si sente eroico anche se si diede eroicamente da fare per mettersi a disposizione dei sopravvissuti mettere a disposizione le sue cure mediche per i sopravvissuti in realtà non furono le sue capacità umane e professionali a renderlo profeta di una vita che non muore mai Takashi Takashi ha soprattutto essenzialmente offerto attraverso la sua persona e i suoi scritti che le esprimono un rapporto diverso con tutti ha sentito Midori ha seguito Midori nell'offrire al mondo la dilatazione di un'amicizia con Dio che nessuna morte nessuna distruzione nessun annientamento nessun peccato potranno mai diminuire e vincere spesso ci scoraggiamo di fronte allo spettacolo del male dell'odio del disprezzo del disprezzo dell'uomo e della vita ci chiediamo come possiamo vincerlo che lotta dobbiamo intraprendere forse basterebbe ricordarsi che le parole di Cristo non passeranno mai e che sono parole di amore Dio infatti ha tanto amato il mondo a dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto ma abbia la vita eterna Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui offriamo al mondo comunque esso sia in qualunque stato si trovi l'amore di Cristo amiamo il mondo questo povero mondo con l'amore di Cristo offriamo e trasmettiamo al mondo l'amicizia di Cristo Midori ci insegna con la fede profonda e decisa cioè pienamente libera tramandatagli dai suoi antenati martiri che il metodo di questa amicizia la sua sostanza e la sua luce consiste essenzialmente nel pregare ed amare nel pregare amando e amare pregando la Madonna ai piedi della croce non ha fatto altro non ha offerto altro al figlio crocifisso e a tutti i figli di cui Gesù morendo la rendeva madre il santo curato d'Ars diceva ai suoi parochiani il tesoro del cristiano non è sulla terra ma in cielo il nostro pensiero perciò deve volgersi dov'è il nostro tesoro questo è il bel compito dell'uomo pregare ed amare se voi se voi pregate ed amate ecco questa è la felicità dell'uomo sulla terra proponeva questa disciplina questa scesi non per formare fedeli pii e corretti ma per starci all'amicizia con Dio e diventare così uomini e donne attratti e attraenti in questa in quella forza di rigenerazione del mondo che è l'amore di Cristo Midori è stata per Takashi il segno e la prova incarnata dell'amicizia di Dio che ogni essere umano è chiamato a manifestare come una vetrata che esalta la luce con una trasparenza sempre personale la trasparenza della santità della carità il racconto dell'episodio che riassume tutta l'amicizia di Midori per Takashi dentro la sua amicizia filiale con il padre e l'amicizia di Dio dovremmo impararlo memoria come una preghiera per me una delle pagine più commoventi che abbia mai letto su come l'amicizia umana come lo deve essere il rapporto matrimoniale è esaltata quando la mendicanza del cuore la porta e la offre al Dio che è in se stesso comunione è fonte di comunione Ascoltiamo questa testimonianza che Nagai scrisse come se guardando sua moglie in un frangente umanamente cupo e pieno di tristezza scoprisse di trovarsi davanti al rovetto ardente dell'amore sacro ed eterno della gloria di Dio Dissi a mia moglie che avevo contratto una malattia incurabile e mi restavano solo tre anni di vita a quella moglie la cui unica ricompensa sino a quel momento era stata di ridursi a essere così minuta a quella moglie che aveva tanto lottato con me nell'attesa vana che un giorno io potessi diventare un professore e potessimo arrivare almeno a condurre una vita come gli altri Midori abbracciò forte il bambino e stette immobile ad ascoltare dopo che ebbi terminato di parlare lei rimase ancora lì ferma per qualche istante dopodiché si alzò andò verso l'altarino acceso una candela e rivolta al crocifisso cominciò a pregare io la guardai impotente il mio pensiero andò al gezzemani a quella scena di sofferenza e di preghiera alla vigilia della morte quando Gesù sudando sangue disse padre se vuoi allontana da me questo calice però non la mia ma la tua volontà sia fatta questa donna pensai che fino ad ora ha portato una grande croce da oggi in poi dovrà portarne una ancora più grande la schiena di mia moglie tremava alla luce della candela mentre pregava era qualcosa di profondamente sacro lei abbassò il capo terminato di pregare venne a sedersi di fronte a me e sorridendo disse sia che viviamo sia che moriamo e per la gloria di Dio ci può essere un'amicizia più reale nel tempo grande nel cuore ed eterna in cielo che quella di riflettere sull'amico con le lacrime agli occhi tutta la gloria di Dio in un sorriso che forza e che potenza d'invito ci siamo sentiti rivolgere dai nostri ospiti oggi ripercorrendo la vita di questi due grandi grandi testimoni a fare in modo che la nostra vita cerchi veramente e si spenda per ciò che non muore mai per ciò che non perisce e a vivere l'amicizia come una forma di attrattiva come ci diceva padre Mauro che Dio esercita su ognuno di noi il meeting è uno dei luoghi un luogo dove questo accade e da 44 anni continuo ad essere fattore di scoperta ad essere incontri bellezza a portarci al cuore della storia un luogo riscoprendo rifacendo nostra una citazione di Sant'Agostino che Monsignor Baturi ci ha consegnato durante l'incontro inaugurale sul titolo del meeting che dice un luogo che fa di un aggregato di persone un popolo per la concorda e comunione delle cose che si amano vi invito per questo a sostenere il meeting non solo grazie alla vostra numerosa presenza alla vostra partecipazione ma anche donando qualcosa attraverso i punti dedicati del dona ora all'interno dei padiglioni della fiera un grazie rinnovato e veramente sentito ai nostri ospiti buongiorno a tutti grazie a tutti la civiltà dell'amore fratelli e sorelle costruite senza stancarvi mai questa civiltà lavorate per questo pregate per questo soffrite per questo il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto un fenomeno obiettivo un fatto reale non è un'idea innanzitutto non è un modo di sentire non solo si tratta di un fatto di un avvenimento ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo più imponente più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli perché il senso religioso è un avvenimento che pone che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna anche il rapporto tra genitori e figli perciò è più vasto perfino di quelli che hanno all'uomo e di percorso il rapporto tra genitori e figli in cui un'unico è un'unico lo scopo di un'unico il rapporto da giovane il rapporto dell'uomo e della donna è un'unico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.